Ehi, e voi chi siete? Dov'è la mia sicurezza? Siamo noi la sicurezza adesso. Cosa? Siamo noi la sicurezza. Siamo noi la sicurezza. I don't wanna take my side. I don't wanna waste my money. Traditorizze. Ora basta. Vengo lì a prenderti. Miss Crowley le ha messo cuscini a snack laggiù, perciò uscirà alla fine dello show. Dov'è la mia sicurezza? Dov'è la mia sicurezza? Rapporto missione. Non c'è alcun segno qui nell'esploratore dello spazio scomparso. Andrò sul prossimo... Pronta, Gina? È Mina. Che hai detto? Non importa. Ascolta, trova quel sentimento. E adesso mai più! Ok, sono pronta. Sì. L'ATRILA L'ATRIBAL Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione